E' un percorso formativo finalizzato al conseguimento del patentino del buon proprietario detentore di cani, un'iniziativa gratuita organizzata dal Comune di Taranto e dall'Asla. E' nata l'idea di fare questo corso ovviamente con la stretta collaborazione dell'Asla Veterinaria di Taranto, perché sicuramente il dottor Colaceco non ci dice mai di no a qualsiasi iniziativa, quindi c'è questa stretta collaborazione che io ritengo fondamentale sul territorio, proprio in ausilio con l'Asla. Il corso, aperto a tutta la cittadinanza e anche a chi vuole adottare un animale, si terrà il 12, 13 e 14 maggio prossimi, nella sala conferenza dell'ex ospedale Testa. E' un'iniziativa questa e quindi un percorso formativo che ha a che fare con l'amore che dovremmo avere nei confronti degli animali. Io sono proprietario, vivo in campagna, ho una colonia feline, sono proprietario di cinque cani. Adottare un amico a quattro zampe è sempre un buon modo per dare e ricevere amore e combattere il randagismo. Questa è un'iniziativa lodevole che l'amministrazione comunale ha preso perché è rivolta ai suoi cittadini che possono migliorare il rapporto con il cane attraverso lo studio del comportamento di questa specie.